Amici di Tesino TV, ciao a tutti. Sono in comune a Castello Tesino, sono in compagnia del sindaco Sisto Fattore. Se vi ricordate bene, la volta scorsa il sindaco ci ha fatto un escursus di tutti i lavori pubblici che verranno realizzati quest'anno, 2014. Ma ora con lui voglio fare due chiacchiere e fargli alcune domande che ci vengono direttamente dalla rete. Da prima relativa al bilancio, Sisto, come stiamo? Col bilancio stiamo abbastanza bene. Possiamo dire che i lotti di legname quest'anno sono stati venduti sopra la media per quanto riguarda l'anno 2013. Abbiamo avuto entrate nuove perché abbiamo avuto una media circa di 15 euro di più al metro cubo. E come bilancio stiamo in un ottimo Stato, non abbiamo debiti e abbiamo un bilancio che ci consente di fare ancora qualche opera nonostante la crisi. Altra domanda che ci viene sempre dalla rete. Cosa ne pensi del Comune Unico? Io sono favorevole per quanto riguarda il Comune Unico. Attualmente nello Stato che siamo, con i numeri di popolazione che abbiamo, dobbiamo arrivare a un'unione dei servizi, a un'unione dei comuni. Non ha più senso voler sostenere tre comuni con tre servizi che attualmente è una cosa impossibile, è una cosa che non si può più tenere. Hai parlato della variante che bypasserà il Paese e questa verrà fatta da quello che ho capito. Mentre invece è la variante che ci collega alla Val Sugana? La variante della Val Sugana non si hanno proprio notizie certe ultimamente. Sappiamo che nell'ultimo collegio dei sindaci ci hanno comunicato che è stata spostata al mese di maggio. Ma io a questo punto, vedendo che da anni e anni e anni che ne stiamo parlando, io incomincio a non credere più che questa variante venga fatta. Attualmente lo Stato che c'è della variante non c'è questa disponibilità finanziaria e non ad altro che si viene a sommare, abbiamo ancora la strada che è un pericolo pubblico perché proprio due giorni fa è stata ridimensionata sulle carreggiate, sempre nel solito posto in località Sottobieno, Frabieno e Tomasedi. Quindi ci auguriamo che la provincia si guardi bene queste opere che per noi sono primarie perché altrimenti ci renderebbero isolati. E per ultimo, visto che il 2015 è qua a Reporte, hai in mente qualcosa? Ma finora noi come lista non ne abbiamo ancora parlato. Io avevo detto ancora a sua volta, ero disponibile per questi cinque anni e dopo di lasciare spazio ai giovani che sono già stati in amministrazione comunale, che mi hanno seguito fino adesso e devo dire una giunta stupenda, un consiglio stupendo che ha cercato di fare il massimo per la popolazione nonostante le difficoltà finanziarie che in questi anni abbiamo incontrato. Io mi auguro che ci sia un gruppo di giovani che continui ad andare avanti. Quindi tu? Io penso che l'età che ho posso mettermi a riposo. Grazie Sisto, arrivederci a tutti, alla prossima volta.